Buba Diouf, sei subentrato nella ripresa in questa gara che la Torres ha vinto 2-0, intanto qual è il tuo stato di forma e come ti trovi? Mi trovi bene perché adesso siamo rimasti benissimo, siamo ripresi anche tecnicamente, calmo anche, perché prima siamo in difficoltà ma adesso ci siamo. Sì, ti sei fatto notare con tante tue sfuriate, sei velocissimo, sappiamo, ti abbiamo visto in un periodo un po' di appannamento nelle ultime gare invece oggi ti abbiamo visto davvero in forma. Sì, ognuno ha la sua caratteria, un paio di giorni non sto bene anche fisicamente, mentalmente non sto bene ma adesso ho preso, quindi la mia caratteristica è velocità, quindi questo non lo dimentico mai. Naturalmente questo gol che la gente ti chiede sempre, però tu sei molto generoso, sei arrivato due volte in area e l'hai messa in mezzo. Sì, io preferisco fare in mezzo perché se la palla mi viene male per tirare devo passare per sicurare perché chi è più vicino di porta è più sicuro, quindi per quello preferisco fare in mezzo, trovare il nostro attaccante per fare il gol. Sei contento naturalmente di questa vittoria, la tors veniva da due sconfitte a mare, anche sotto le feste, oggi eravate tutti molto felici, vi siete un po' scrollati di dosso questo alone negativo. Sì, oggi siamo contenti tutti perché per uscire questa difficoltà bisogna un sacrificio, oggi abbiamo fatto un pochettino, possiamo dire che un pochettino perché c'è tanti dietro, quindi speriamo tutto è bene. Tanto ancora da lavorare e da fare. Eh sì, certo. Grazie Bubba. Ok, grazie a voi.